Musica Al Day 1B anche Zolla Francesco che ci stava appunto raccontando che gli è scoppiato un po' di tutto ma resiste Insomma questa fine non sta andando proprio come speravi immagino Cerchiamo di resistere sì e al decimo livello avevo 195.000 quindi ho giocato pochissime mani solo quelle col punto Mi ritrovo in mano KK, prima di me resano io vado sopra e quello dietro di me mi colla K3 a picche, tutto preflop e a river chiude il colore e mi scoppia K Quindi perdo 130-140.000 lì praticamente Poi sono rimasto corto Vabbè insomma Resistiamo dai Le ultime mani appunto non si può fare altro che resistere Sì sì, sono stato fortunato adesso in un coin 2-2 contro Asso Donna E quindi ho raddoppiato quello che avevo, ero rimasto corto con 30.000, adesso ne ho 60 Vediamo, vediamo, manco in 15 minuti può succedere di tutto Grazie Niente, ciao grazie Grazie